La mentalità è quella giusta, è vincente, è negoziato. Speriamo che non perdere, se lo guarderemo in sostanzialmente, non credo. Carichissimo, guardate anche a Pro Auto che ho preso l'aereo in vita mia, quindi immaginate. Abbiamo fatto un gruppo che è abbastanza forte, abbiamo il portiere quest'anno molto qualificato, non abbiamo niente da invidiare a nessuno, ce la giochiamo. Il torneo da affrontare ha molta generità, ma lo stesso tempo è che non ci sono più attività. Abbiamo vinto il torneo che non sa, soprattutto con il torneo che non sa, che non fa bene anche il torneo. Per questo è vincere, vincere il tiro e speriamo bene come l'anno scorso. Ci sono le 15 formazioni migliori in Italia, quindi sicuramente passare in un'altra nuova e poi chissà, chiedere io, magari segnare e vedere dove arriviamo. In C, the children are starvin' and their houses were destroyed. Don't think they could forget.